allora qui quello che lui fa è questa linea più stretta di conseguenza se questa è così questa sarà di meno e farà così e se ne va sul sotto del labbro inferiore cioè questo qui è l'avvallamento che c'è fra il labbro inferiore e il mento cioè va in dentro e poi torna in fuori ok questa parte qui se ne va qui e lui qui ci fa un bell'arco e fin qui mi sta abbastanza bene da quest'altra parte che pasticcio fa cioè questo viene in avanti questo viene in avanti e anche questo da qui e anche questo deve essere un arco ragazzi e deve venire in avanti ha tolto un pezzo quindi questo rientra e questo viene in fuori così che poi è pure coerente con la prospettiva ma vedi dove deve arrivare deve arrivare addirittura qui questo deve arrivare qui e questo va giù e va bene qui e va bene qui e va bene così e questo va bene così e va bene così dopodiché qui lui mette la metà quella metà che sta qui in mezzo ok dice quella lì va diciamo che va ad arco cerchiamo di vedere come funziona allora qui diciamo che c'è un avvallamento qui c'è questa parte più cicciotta cioè qui facciamo questo appunto qui arriva qui quindi qui c'è questo vedete questo qui io lo vedo da davanti lo vedo come una linea ma se lo vedo di scorcio lo vedo come un arco io qui lo vedo come un arco lo vedo di scorcio e quindi poniamo che qui la bocca sia qui di nuovo questo va in prospettiva e anche questo in qualche maniera viene guidato in prospettiva ok questo sta così adesso questi ragionamenti noi li facciamo in via teorica per capire come si muove la storia e poi ci facciamo un sacco di disegni fino a che questa roba non diventa istintiva e quando guardiamo una testa sappiamo cosa si sta muovendo là sotto e anche se magari stiamo come andando da una foto sbagliata non so se avete visto io sto facendo due ritratti da due foto completamente sballate tutte sfocate eppure so dove mettere il tratto degli occhi so dove stanno le sopracciglia mi so trovare le forme perché? perché le somme in qualche maniera le ho costruite a memoria ok? speriamo di sì allora qui questo qui è un ovale e quindi sarà qua già qui c'è qualcosa che non mi va bene perché questo ovale deve andare un po' dietro perché è un po' nascosto cioè se questo sono discorcio se questi due sono discorcio uno sta dietro e uno l'altro mi sta davanti adesso sto esagerando in prospettiva quindi se questo fa così questo fa così chi ha fatto questo disegno voleva fare una cosa super specializzata però non me la racconta giusta o mi serve una gomma pane andiamo avanti allora qui abbiamo detto che c'è questa cosa c'ho questo punto qui quindi c'ho un altro arco e questo ovale qui della bocca infatti si allunga questo vedi che lo certe cose le fai certe cose sembra che non le sappiamo questo sta davanti questo sta davanti e questo sta dietro questo è troppo corto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti